Vai! Come? Ho bevuto. Per colpa sua. Di sicuro ci sono stati momenti un po' blues in cui la diva ti lascia e tu ti trovi a casa a suonare la chitarra. Spesso da ragazzino mi sono trovato nel mio garage a suonare la chitarra, a studiare proprio perché non uscivo e magari non avevo la ragazza. In quei momenti certe volte ho bevuto un po' di birra. Perché mi pento? Di più o di meno. Vivo cercando di non pentirmi di niente, quindi di solito ho fatto sempre, ho sempre vissuto così. Però sicuramente di alcune cose mi pento. Forse di non essermi trasferito all'estero da giovane. Forse adesso sarei comunque in Italia. Però mi sarebbe piaciuto vivere gli anni dai 18 ai 20. Così un po' fare un'esperienza informativa. Se sbaglio davanti a tutti. Forse certe volte dovrei studiare più chitarra. Perché tante volte mi succede che magari mi emoziono e di questa cosa non riesco a controllarla. Soprattutto se sto davanti a tanta gente. Per cui avere un po' più di controllo col mio strumento mi aiuterebbe, ecco. Chi ho recitato? Senza un domani. Non ho senso. Posso prendere più? Con... Con chi ho recitato senza un domani. Ma con nessuno. No, non penso di aver mai recitato una parte. Magari l'ho fatto e non mi sono reso conto. Dunque, dove? Futuro. Dove? Assaggerò più spesso quasi mai. Non so, forse mi piacerebbe viaggiare molto per poter assaggiare sapori. Però non solo per quanto riguarda proprio il cibo. Le emozioni, no? Forse... Forse viaggiano quel tipo di roba e litte che aiuta. Quando suonerò? Per finta. In playback. In playback l'ho sempre odiato. Una piccola volta del Festival Bar mi dava veramente fastidio. E quindi quando suonerò per finta, mai. Facciamo mai. No. No, mai non è una preposizione, quindi è una preposizione. Basta. 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 Basta.